Palo o croce? Gesù morì inchiodato ad un palo, come insegna la società Torre di Guardia, o ad una croce. Fino ai primi due decenni del ventesimo secolo, gli allora studenti biblici, come si chiamavano i testimoni di Geova, credevano e insegnavano che Gesù fosse stato inchiodato ad una croce. Poi, a un certo punto, per prendere le distanze dalla Chiesa Cattolica, la società Torre di Guardia cambia le cose e inizia ad insegnare che Gesù fu appeso ad un palo, morì inchiodato ad un palo. E tutt'oggi i testimoni di Geova, l'organizzazione dei testimoni di Geova, insegna che Gesù Cristo fu inchiodato ad un palo. Come stanno le cose? Allora, sebbene non è di fondamentale importanza sapere quale sia stato lo strumento di morte con il quale il nostro Signore ha compiuto la sua morte di sacrificio. Però credo che abbia la sua importanza saperlo perché se è diverso da quello che insegnano i testimoni di Geova, la società Torre di Guardia è giusto saperlo. La parola greca usata nel Nuovo Testamento per croce è stauros, che letteralmente significa un palo dritto e da qui nasce l'equivoco. Quindi un testimone di Geova vi può dire, vedi, la parola stauros significa un palo. Questo palo era chiamato anche stipite e misurava circa 4 metri, 4 metri e mezzo ed era conficcato in terra per circa un metro e rimaneva fisso nel luogo dell'esecuzione. Proprio perché era troppo di grandi dimensioni e troppo pesante da trasportarlo. È assurdo pensare che Gesù abbia portato questo palo sulle spalle di così enormi dimensioni, visto che abbiamo detto era alto circa 4 metri, 4 metri e mezzo e pesava troppo, aveva un peso troppo eccessivo. Voi immaginate quanto può pesare un palo lungo 4 metri e mezzo di legno pieno. È assurdo pensare che Gesù abbia portato un palo del genere fino al Golgotha, fino al luogo dell'esecuzione. è più logico pensare che Cristo Gesù abbia portato il patibulum, ossia il braccio orizzontale della croce sulle spalle, sulle spalle fino al luogo della condanna, dove era già conficcato lo stipite. Poi in loco veniva assemblata la croce, ossia il patibulum, il braccio orizzontale portato dal condannato veniva montato ed incastrato sul braccio verticale, sul palo verticale, sullo stipite e così veniva formata una croce. Anche perché i Romani, e la condanna di Gesù fu delegata ai Romani, crocifiggevano, non appendevano ad un palo. Ora, per rendere meglio il concetto della forma e della dinamica di questo supplizio a cui veniva condannato appunto colui che doveva subire la condanna, l'esecuzione, ci sono alcuni pareri di studiosi che vogliamo citare brevemente, per quanto riguarda anche la linguistica, l'etimologia della parola. Allora, etimologicamente, cioè come origine della parola, crux, da cui poi deriva la parola croce, significa palo dritto, trave acuta, stipite, che veniva confeccato appunto, come abbiamo detto prima, a terra, e formava una croce eretta semplice, la famosa crux simplex dal latino. Comunemente però era composta da due pali trasversali. Uno era lo stipite, quindi il palo verticale, e l'altro, come abbiamo detto, era il patibulum, il palo orizzontale. Al tempo di Gesù le croci potevano essere assemblate e assumere tre forme principali. c'era la croce commissa o antoniana, ed era a forma di una semplice T, c'era la croce immissa o capitata, ed era a forma di più, e poi c'era la croce di Sant'Andrea, quella a forma di X. A seconda dell'altezza in cui veniva incastrato e posizionato lo stipite, quindi il braccio orizzontale, la croce veniva denominata sublime, quindi alta, oppure umile, quindi bassa. Circa a metà dello stipite c'era un alloggio per i piedi del condannato, che veniva chiamato, veniva denominato sedile o cavicchio, ed era una specie di cuneo dove il condannato, quando gli venivano inchiodati i piedi, poteva avere se non altro un minimo di sollievo nel poggiare la pianta dei piedi sopra questo cuneo. Dopodiché veniva affissa una tavoletta in alto sullo stipite, che era il palo verticale, che indicava il motivo della condanna. E nel caso di Gesù, ricordiamo bene che c'era scritto Gesù il Nazareno, re dei giudei. Per tutti i particolari di quello che Gesù ha patito durante la crocifissione, si può consultare il dizionario enciclopedico utet, pagina 185, oppure l'enciclopedia italiana Treccani, volume 12, pagina 1, sotto la voce croce e simili, per farsi un'idea di cosa Gesù abbia passato con questo supplizio. Ora, con questo noi non vogliamo dire che la croce deve essere simbolo o oggetto di adorazione, di venerazione, o essere usato come un amuleto o un portafortuna o un talismano, quello no, ma è giusto fare chiarezza e smentire la teologia della società Torre di Guardia, secondo la quale Cristo, Gesù, è stato appeso ad un palo. Anche perché, anche perché, se proprio vogliamo fare i pignoli, anche il palo su cui i testimoni di Geova credono che Gesù sia stato inchiodato, ha origini pagane. Se noi, per esempio, e vediamo alcuni esempi scritturali di questo, se noi, per esempio, prendiamo il libro di Deuteronomio, al capitolo 7, il versetto 5. Deuteronomio, al capitolo 7, il versetto 5. Invece farete loro così, demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, abbatterete i loro idoli di Astarte e darete alle fiamme le loro immagini scolpite. L'idolo di Astarte, o gli idoli di Astarte, e di Baal, consistevano generalmente in pali sacri. Un altro esempio lo troviamo nel libro di Giudici, al capitolo 3, il versetto 7. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore, dimenticarono il Signore, il loro Dio, e servirono gli idoli di Baal e di Astarte. Giudici, capitolo 6, il versetto 25. Quella stessa notte il Signore gli disse Prendi il toro di tuo padre e il secondo toro di sette anni, demolisci l'altare di Baal, che è di tuo padre, abbatti l'idolo che gli sta vicino. Primo libro dei re, al capitolo 15. Primo re, capitolo 15, il versetto 13. Parlando del re Asa, dice Eliminò dal paese quelli che si prostituivano, fece sparire tutti gli idoli che i suoi padri avevano fatti, e destituì pure dalla dignità di regina sua madre Maaca, perché lei aveva innalzato un'immagine di Astarte, o palo sacro. Asa abbatté l'immagine e la bruciò presso il torrente Kidron. Tuttavia gli alti luoghi non furono eliminati, sebbene il cuore di Asa fosse interamente per il Signore durante tutta la sua vita. Secondo libro dei re, capitolo 13. Il versetto 6. Parlando del re Joachaz, re di Israele. Oppure, infine, un altro esempio, Isaia, capitolo 17, il versetto 8. Non volgerà più lo sguardo verso gli altari, opera delle sue mani, non guarderà più a ciò che le sue dita hanno fatto, agli idoli di Astarte e alle colonne solari. Quindi, anche il palo, anzi, forse più il palo che la croce, paradossalmente, hanno origini pagane. Ancora di più, perché nella Bibbia, appunto, si parla di idoli di pal, di Astarte, spesso rappresentati attraverso pali sacri, colonne solari. Spesso, nella Bibbia, appunto, si fa riferimento a idoli pagani e a pali sacri dedicati a questi idoli pagani. Quindi, se come dicono i testimoni di Geova, se come insegna la società torre di guardia, la croce ha un simbolo pagano, quanto più il palo, forse ancora di più il palo allora. Quindi, vedete, basta riflettersi un pochino sulle cose. Anche perché c'è da dire che lo stesso Pilato, come riportato in Giovanni 18, 31, quando disse ai giudei, parlando di Gesù, prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge, i giudei, i capi religiosi, risposero a noi non c'è lecito uccidere nessuno, soprattutto durante il periodo di Pasqua. Quindi, come abbiamo detto prima, l'esecuzione, la condanna di Gesù fu delegata interamente ai Romani e i Romani crocifigevano. Un'obiezione che un testimone di Geova, un'altra obiezione che un testimone di Geova può, potrebbe muovere riguardo a questo è però, come dice Deuteronomio 21, 23, e poi ripreso dall'Apostolo Paolo in Galati 3, 13, si dice maledetto chiunque è appeso al legno, vedi legno, appeso al legno, quindi un palo, ma riflettiamo un attimo. Una croce intera, non è fatta di legno? Sempre di legno trattasi. Quindi questo video vuole indurre a riflettere, a far riflettere, i testimoni di Geova e non solo, coloro anche che, a seguito degli insegnamenti dei testimoni di Geova, quindi dalla Società Torre di Guardia, hanno abbracciato l'ipotesi. Anzi, direi la certezza, perché la Torre di Guardia, la Società Torre di Guardia, anche in tutte le sue illustrazioni, i suoi disegni, in cui raffigura Gesù inchiodato, la certezza che Gesù sia stato inchiodato ad un palo. Ripeto, questo non è un video che vuole incoraggiare l'utilizzo della croce come simbolo di venerazione, di adorazione, di talismano, di portafortuna, niente di tutto questo, ma è un video che ha il solo ed unico scopo di fare chiarezza su un insegnamento da parte della Società Torre di Guardia che risulta essere sbagliato, anche, diciamo, in questo caso, sia dal punto di vista storico che anche dal punto di vista scritturale. Ricordiamo che l'Apostolo Tommaso, quando Gesù risuscitò, disse «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi», dei chiodi, plurale, simbolo del fatto che Gesù, che a Gesù furono conficcati i chiodi a tutte e due le mani e questo poteva avvenire logicamente su una croce. Infatti dice «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, non lo tocco con mano, non crederò». Poi, nel Vangelo di Matteo, si dice che il Titulus, la targa, con scritto «Gesù, Nazareno, re dei giudei», fu posizionata sopra il suo capo. Se fosse stato inchiodato ad un palo, l'Evangelista Matteo avrebbe potuto scrivere che la targa fu posizionata sopra le mani, come raffigura la società torre di guardia. Quindi questo video vuole indurre la riflessione sul fatto, una riflessione importante, sul fatto che Gesù fu crocifisso. E questa croce proprio non piace, perché non piace ai testimoni di Geova, non piace alla società torre di guardia. Guardate l'Apostolo Paolo, questa è l'ultima scrittura di questo video, che cosa ebbe a scrivere nella lettera ai filippesi al capitolo 3, il versetto 18. Filippesi, capitolo 3, il versetto 18. Perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora, piangendo. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata.